La Lombardia è la locomotiva d'Italia. Viviamo in una società, quale quella contemporanea, caratterizzata dalla velocità. Occorrono quindi istituzioni più snelle e più efficienti, quanto propone la riforma costituzionale su cui siamo chiamati a votare il 4 dicembre. Inoltre, contrariamente a quanto si vuole far credere, col nuovo Senato, regioni e comuni avranno voce non più solo sulla legislazione regionale, ma anche sulla legislazione nazionale. Sono Roberto Bruni, capogruppo del Pato Civico in Regione Lombardia. Voterò senz'altro sì il 4 dicembre, perché credo nella necessità di istituzioni più snelle e più efficienti. Non badate alle diatribe inconcludenti, ma guardate al merito delle cose. Cerchiamo di essere concreti e quindi votiamo sì il 4 dicembre al referendum sulla riforma costituzionale.